371 142 3790 no, non è una televendita ma è un nuovo sistema digitale Ineltech Mobile che abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti per migliorare la comunicazione e utilizzare il digitale una volta saldato il numero cerca il contatto su Whatsapp entrerai nella nostra pagina cliccando nella parte superiore ti basterà cliccare qui per poter entrare e hai a disposizione tutte le informazioni della nostra società gli orari, il sito web ma la cosa più importante la vera novità è il catalogo digitale il catalogo online una volta entrato nel catalogo hai la possibilità di guardare tutti i servizi ma la vera novità sono le prime tre icone che ti permettono con un kit di avere davvero e in qualsiasi momento della giornata una risposta ti basta cliccare per esempio su richiesta di intervento allegando magari le foto per le quali tu ci stai chiedendo di intervenire oppure potrai richiedere un'offerta legando dei capitolati tecnici o parlando di quella che è la tua esigenza ultimo ma non meno importante anzi probabilmente una vera chicca è una richiesta di consulenza gratuita ben 45 minuti di videoconsulenza che ti permetteranno di poter entrare in contatto con noi e parlare di tutto quello che ti serve per il progetto che stai affrontando per delle criticità che stai avendo sull'impianto quindi per migliorare, implementare e mantenere tutti gli impianti della tua attività Ineltec Mobile 371 142 3790 con un click entri in contatto con noi e risolvi i tuoi problemi